Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel nostro reportage sull'Olimpiadi siamo arrivati al nono turno dove l'Italia ha giocato contro l'Irlanda e stiamo per guardare insieme la spettacolare partita tra il nostro Luca Moroni di Bianco contro Alexander Baburin di Nero. Baburin naturalmente è di origine russa, però vive in Irlanda con tutta la famiglia da quasi 30 anni e si è trasferito a Dublino nel 1993. Non dimenticate di like al video, partiamo! Moroni di Bianco apre con E4, Baburin risponde con cavallo in F6. Questa è la difesa di Ekin, allora il pedone sotto attacco avanza e minaccia il cavallo che si sposta in D5 e con D4 il bianco conquista il centro. Ma ricordiamoci sempre che i pedoni che vengano spinti possono sempre diventare un bersaglio per gli attacchi avversari. E infatti Baburin come il nero gioca D6, quindi attacca il pedone più avanzato. C4 fa una minaccia più grossa perché attacca il cavallo, il cavallo si sposta in B6, tanto il pedone è protetto. Arriva F4 e questa variante è il cosiddetto attacco dei quattro pedoni. Allora alfiere in F5, cavallo in C3, con l'alfiere chiaro fuori dalla catena pedonale, allora il nero può giocare E6. Cavallo in F3, alfiere in E7. Qui forse, certo solidissima è questa alfiere in E7, forse si poteva cambiare un po' prima. Adesso, mossa al bianco, il bianco deve decidere dove sviluppare il suo alfiere campo chiaro, se in D3 oppure in E2. Fidandosi, come in tante altre strutture della forza del suo centro, Moroni sviluppa l'alfiere in modo più posizionale in E2. Allora alfiere in E2, D per E5, F per E5, arrocco corto per il nero, arrocco corto anche per il bianco. Cavallo in C6, alfiere in E3 che quindi sviluppa e protegge, F6 che attacca il pedone, è la continuazione principale. Ottima mossa, qual è la minaccia del nero? La minaccia è il cambio e poi il raddoppio dell'attacco col secondo cavallo sulla casa E5. Allora, per contrastare questa minaccia è Moroni che cambia per primo e per F6, qui naturalmente si ricattura con l'alfiere, quindi l'alfiere ricattura in F6, donna in D2, fa due cose buone, crea questa batteria, donna alfiere, e tutto punta insieme al cavallo a questa casa G5, libera, oltretutto connetto le torri, libera questa casa D1 per la torre. Guardate, brutta la torre sulla stessa colonna della donna nera, brutto per il nero. E allora Baburin controlla anche col pedone H, mette il terzo controllo sull'importante casa G5, torre in A che va in D1, e il nero sposta la donna dalla colonna D. Ora, una buona idea già giocata è Alfieri in F4 che non solo attacca il pedone, che può essere semplicemente difeso con donna in E7, ma controlla, è un nuovo controllo sull'importante casa E5, ottima idea anche quella di Moroni. Re in H1, mossa 15, questa è la novità che rende la partita originale. E allora, torre in A che va in D8, e anche Moroni toglie la donna dalla colonna della torre avversaria, donna in C1, torre in F7 per il raddoppio delle torri sulla colonna D, non gli dà il tempo Moroni, gioca D5. E per D5, il pedone C ricattura, cavallo sotto attacco sta meglio in E5, e invece il nero lo porta in B4. Certo, è un nuovo attacco sul pedone, è un'imprecisione però, perché guardate che succede. Moroni cede la coppia degli Alfieri, Alfieri per cavallo elimina un attaccante, e siamo, pensate, al momento critico della partita. Perché con quale pedone bisogna riprendere? Ora, la logica, senza la tattica, la strategia, cosa ci direbbe? Ci direbbe di riprendere con il pedone A, perché se si riprende col pedone C, il pedone del bianco diventa un pedone passato. Stessa cosa che pensa Baburin, e riprende con il pedone A. E invece bisognava usare il pedone C, e noi siamo arrivati al nostro quizzone. Qual è l'idea fortissima a disposizione del bianco? Mettete pure in pausa, ed a voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Io penso che l'abbiate trovata, guardate brutta questa diagonale, debole, perché non c'è più il pedone, che porta a Re Nero, con la brutta geometria della torre davanti, quindi con l'idea dell'infilata. E infatti l'idea fortissima è Alfieri in C4, giocata anche da Moroni. Prima di andare avanti, ora qui bisognerà spostare il Re, se no arriva l'infilata. Prima di andare avanti e vedere come si sviluppa poi questo attacco, ritorniamo a questa Alfiere per Cavallo. Come mai allora bisognava giocare la ricattura col pedone C? Perché dopo C per B6 è vero che il pedone è passato, ed è vero anche che il bianco rimane in vantaggio, ma Alfieri in C4 non è più decisiva. Andiamo a vedere il perché. Perché dopo Alfieri in C4 c'è Torre in C8, e adesso che si fa? Se si gioca B3, guardate che succede. Alfieri in D3 costringe l'Alfiere a cambiare, la torre si riprende il pezzo, la donna sotto attacco si deve spostare, il nero ha trovato la parità. E dopo Torre in C8, se Alfieri in B3, Cavallo in D3 attacca la donna che si deve portare in D2, Cavallo in C5 sempre con parità, è perché qui non ha nessun bersaglio, e quindi la scoperta viene parata semplicemente con Cavallo su Alfieri. Quindi l'idea dopo la ricattura col pedone C sarebbe stato giocare Alfieri in B5 con una linea che vi lascio in descrizione, in notazione sotto al video. Ritorniamo a noi, e invece il nero ha ripreso con il pedone A, non si è aperta la colonna C, e allora Alfieri in C4 è micidiale. E allora Baburi ne sposta il Re, ma D6 arriva, e c'è la scoperta dell'attacco dell'Alfiere sulla torre, raddoppio delle torri sulla colonna D, donna in F4. Guardate brutto. Attacca un pezzo sospeso, arriva con tempo quindi, ne attacca uno sospeso a raggi X, bisogna salvare il pezzo, cerca di farlo con tempo Baburi, ma non funziona. Alfieri in C2 sì arriva con tempo, ma la torre spostandosi attacca la donna, donna in F8, il pedone cattura ed è protetto dalla donna. Allora, torre in C8, Alfieri in E6, infilata micidiale, e la donna attacca un pezzo sospeso, il cavallo in D3 attacca la donna, e dove si mette questa donna? Intanto la minaccia rimane. Se il bianco fa una nuova minaccia, la partita è finita. Donna in D2 di Moroni, attacca altri due pezzi, e Baburi ingiustamente abbandona. Guardiamo forse la migliore continuazione a disposizione del nero, che probabilmente è la cattura del pedone, Alfieri per torre in C8, cavallo per torre, la torre ricattura, la donna si prende il pezzo, ma il pezzo se lo prende anche il bianco, è vero che qui vincerà un pedone, ma intanto il bianco è rimasto con il cavallo di vantaggio, con un pezzo di vantaggio. Spettacolare attacco di Moroni, che con questa partita ha contribuito alla vittoria dell'Italia sull'Irlanda, e continua quindi il bel cammino azzurro in queste Olimpiadi. Spero che anche la partita di oggi vi sia piaciuta, se vi è piaciuta non dimenticate il like, non dimenticate di iscrivervi al canale, purtroppo non ci vedremo domani, ma dopo domani con un nuovo video. A presto! Grazie!